E i bianconeri avanzano, cercano di lanciarsi in verticale, una serie di triangolazioni tutta di prima, la Real Marchesa potrebbe raddoppiare il risultato, il pallonetto bellissimo ed è un grande gol, davvero un bellissimo gol. Un grande gol, il pubblico qui applaude, un grandissimo gol del numero 10 Matrone Vittorio.